La Procura regionale della Corte dei Conti per la Campania, al termine degli accertamenti delegati alla Guardia di Finanza di Salerno, ha riscontrato irregolarità nell'assegnazione dell'appalto per i lavori relativi alla manifestazione Lucida Artista Kerbes Natalizia del Comune di Salerno. Le indagini del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Salerno hanno riguardato gli appalti di forniture ed opere, nonché le prestazioni rese e i finanziamenti complessivamente erogati in occasione della decima anno 2015-2016, undicesima anno 2016-2017 e dodicesima anno 2017-2018 edizione dell'evento che ormai ininterrottamente dal 2006 si svolge nel capoluogo salernitano in occasione delle festività natalizie e di fine anno. In particolare è stata evidenziata l'illegittimità di alcune procedure amministrative poste in essere da responsabili comunali, i quali relativamente all'assegnazione degli appalti che hanno comportato una spesa complessiva nel predetto triennio di circa 8 milioni e mezzo di euro, hanno frequentemente fatto ricorso ad onerosi affidamenti diretti, anziché procedere all'indizione di gare pubbliche, così come ordinariamente previsto dalla normativa di riferimento. Le indagini sin cui svolte hanno consentito di accertare che tale iter procedurale ha consentito l'affido di lavori e forniture ad un ristretto novero di società individuate e di volta in volta dai dirigenti comunali in assenza di trasparenti procedure comparative pubbliche, ledendo così anche i principi di efficienza, imparzialità e parità di trattamento che dovrebbero caratterizzare l'agire amministrativo all'esito della complessa attività investigativa svolta, la procura contabile ha individuato quali responsabili del danno erariale accertato, quantificato in circa 850 mila euro due dirigenti e un funzionario del comune di Salerno, nei cui confronti sono stati notificati formali atti di contestazione degli illeciti rilevati.